Questo qua sarà il Memorial di Mattia Sanna, il mio primo cantante quando ero alle medie e lui purtroppo l'anno scorso era malato di cancro, nonostante ciò ha continuato a voler fare beneficenza e quindi insomma era la sua volontà. Quindi abbiamo questo concerto di beneficenza all'8 di luglio e faremo la beneficenza quest'anno per il reparto pediatrico dell'ospedale San Martino di Oristano e quindi l'8 luglio abbiamo il chitarrista che suonava nei Guns N' Roses, storico Gilby Clark abbiamo Mike Terrano, abbiamo tantissimi anche bravissimi, grandissimi artisti anche locali c'è sempre al Patrick & Friends una sorta di jam dove diversi artisti si mischiano tra di loro alcuni che non sono mai visti prima, quindi ci mischieremo anche con Gilby e la sua band è venuto col suo trio americano, quindi insomma sarà una serata divertente. Vi chiedo di donare, avremo la massima trasparenza, saprete tutto quello che avviene, quanti soldi entrano, come verranno spesi, avete le prove di tutto come abbiamo già fatto l'anno scorso e quindi anche un euro può fare la differenza, molti pensano che no, invece no 3000 persone che mettono un euro sono 3000 euro in più e possono fare grande differenza.